La prima giornata della Serie B comincia con qualche sorpresa e conferme. Sorpresa per il Catania che è debutta con uno spettacolare 3-3 con il Lanciano. Il nuovo vari di Papresta vince all'esordio in trasferta sul virus Entella ed il Perugia aveva iniziato la stagione nell'anticipo del venerdì con pieno merito battendo il Bologna. Ecco i risultati della prima giornata. Perugia-Bologna 2-1 giocata venerdì. Ieri Avellino-Provercelli 1-0, Catania-Lanciano 3-3, Crotone-Ternana 0-2, Frosinone-Vrescia 1-0, Livorno-Carpi 1-1, Pescara-Trapani 0-0, Varese-Spezia 2-1, Modena-Cittadella si giocherà domani e poi Vicenza-Latina. Quest'ultima partita non è stata ancora giocata poiché il Vicenza solamente venerdì ha avuto la conferma come ventiduesima squadra del campionato cadetto.